La Serie C viaggia sui binari in direzione Altamura, speranze ridotte al lumicino per il Martina, dopo il 3-3 rifilato al Santa Maria Cilento, i biancazzurri hanno soltanto accarezzato per una manciata di minuti la possibilità di portarsi a meno 5 dalla capolista. La rete di Saraniti, arrivata proprio all'ultimo respiro contro la Paganese, ha scombinato i piani della squadra di Mister Pizzulli, che già nel prossimo turno potrebbe svestire i panni di antagonista principale per concentrarsi sui play-off. Il vantaggio, dalle dirette inseguitrici in ogni caso, è rassicurante. Con 61 punti all'attivo, il Martina ha quasi ipotecato il secondo posto in classifica. Poche speranze per Nardò e Fidelisandria, che vedono la piazza d'onore rispettivamente a 5 e 6 lunghezze di distanza. Proseguire nel segno della continuità, dunque, è l'obiettivo principale. Del resto, il trend è sicuramente positivo per Palermo e compagni, reduci da 5 vittorie consecutive. Domenica, intanto, al Torsi c'è il Barletta. Biancorossi ha la ricerca disperata di punti in chiave play-out dopo il pareggio contro il Casarano. Il Martina non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Per le sorti del campionato, però, tutto dipenderà dalla sfida dell'Angelo tra team Altamura e Gallipoli.